15 giorni fa hanno tagliato due a due macchine le gomme l'altro giorno tre macchine e oggi due macchine ancora e questa notte è il disastro di carabinieri vediamo infatti si vede si vede la macchia ma sono ragazzi gente d'ultima non si sa non si sa niente avete chiamato i carabinieri? si chiamati i carabinieri verranno giù venere speriamo in bene ma è tanto tempo che succede sta storia no poco tempo poco tempo e non si sa chi siano altri danni che avete sentito no no le gomme e qui il fuoco certo qui se avessero bruciato più avanti partiva tutta la casa come roba da matti pazzesco va bene tutto grazie Giuseppe Peseo